Bella raga, buongiorno. Anche se calcisticamente non è un buongiorno, io l'ho saputo alle 13.05 circa, quindi stavo a convegno a Milano, adesso sono tornato a casa, quindi questo video uscirà ormai con notizie genottrata. Però volevo fare il mio cordoglio, le mie condoglianze, esprimere il mio cordoglio, le mie condoglianze alla famiglia Stori per la scomparsa di Davide, capitano della Fiorentina, dunque io sono Juventino Doc, quindi si sa la rivalità tra Juventus e Fiorentina, ma su queste cose, soprattutto su una morte prematura di un ragazzo di 31 anni, che era oltre capitano della Fiorentina, non ci sono colori secondo me, quindi il rispetto per la persona, il giocatore, il professionista quale lui era, soprattutto perché lui credo che nessuno lo odiasse, perché non ha mai detto nulla, nessuna parola fuori posto, non ha fatto nessuna bravata e quindi era davvero un ragazzo anche umile, uno dei pochi, quei soldi non hanno dato alla testa. Quindi io spero questo messaggio arriva alla famiglia Stori, da un tifoso da Juventus Doc, quale sono, e perché comunque di fronte alla morte di un ragazzo, di fronte alla morte non esistono colori, squadre, rivalità. Lui è giocato anche, ne ha cresciuto nel giovane del Milan, ha giocato con Cagliari e Roma, tra l'altro ha giocato 14 presenze con la nazionale italiana, segnando un gol tra l'altro, ricordo pure quale fosse di testa sul calcio d'angolo. Niente ragazzi, io per rispetto suo non farò previsioni di Champions League questa settimana, né di Europa League e forse parlerò soltanto del post partita di Juventus Tottenham di mercoledì, per rispetto soprattutto alla persona di Davide Astoria. Per il momento è tutto ragazzi, buona giornata, ciao Davide, riposo in pace.